Presenti a Bagnaia, li abbiamo intervistato ieri Paolo Paini e Massimo Grossato, protagonisti a Dublino di una splendida Coppa delle Nazioni e soprattutto saranno protagonisti a Barcellona con due cavalli italiani, Lazzaro delle Schiave e Ottava Meraviglia. Direi che è da tanto tempo che non si vedono cavalli italiani, due soprattutto in Coppa delle Nazioni. Sì, per fortuna l'allevamento italiano negli ultimi anni è migliorato molto e questi sono i risultati, abbiamo due cavalli italiani in una finale così importante, io non mi ricordo che si sia mai verificato. La stessa cosa, nel senso che non mi ricordo nemmeno io se si sia mai successo prima di questa finale, però insomma ci siamo, eravamo a Dublino, abbiamo fatto bene, speriamo di fare altrettanto bene a Barcellona. Senti una responsabilità maggiore, sei sentito una responsabilità maggiore avendo proprio dei cavalli italiani? No, è un piacere, siamo italiani, abbiamo dei cavalli che sono nati in Italia e quindi no, non è una responsabilità in più, è un piacere in più. Ed è un buon segnale anche quindi per l'allevamento italiano? Beh, io penso che sia incentivante per tutti gli elevatori che sono in Italia, vedere i cavalli che sono diciamo ai livelli che grazie a Dio sono arrivati questi due cavalli e quindi che allevino ancora meglio e di più, più soggetti. A Paolo ho già fatto questa domanda ieri, come stanno andando a telegare qui a Bagnaia e cosa vuol dire essere a Bagnaia? Allora, le gare per adesso stiamo andando in maniera mediocre, speriamo oggi nel Gran Premio di poter migliorare la situazione, insomma ci credo, la cavalla lo può fare bene ed essere qui a Bagnaia è ovviamente un piacere, io vengo tutti gli anni anche se quest'anno ho dovuto fare un po' le corse per essere qui, però mi piace l'ambiente, mi piace l'ospitalità, mi piace tantissimo il concorso e quindi sono contento di essere qui anche se non ho i cavalli migliori e quindi non sono così competitivo.